e scaldamento cosa consiste? no no questo non lo faccio no vabbè 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 e che devo fare è impossibile no ragazzi è impossibile un'avante guarde performance a celebration of discord and atonality now then let's give our pianist a warm round of applause thank you so much for performing here you are a companion card and a memento what we give all our concert goers now as for what we owe you for your performance allow me to speak for the lady first there's the uncall rate then there's my finder's fee and on top of that I received word from the pianist who eloped he and his partner left for a place where nothing can come between the two of them ever again it seems your performance didn't just save the hotel's reputation it also saved a relationship may the next time we meet be on the stage of the honeybee inn until then my liberators of love ma va a cagare va la stronza ah that performance we look forward to see in front save your aching feet and ride a wheelie instead come one come all do the best shopping town you got a real good selection today coffee and tacos and that's me welcome to run wild a paradise for animals big and small a well I'm going to the business of my home I'm going to go to the house I'm going to go to the house costa in biga I have already done I'm going to get oh no ok 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 eh questo non ho capito se deve essere un altro però penso che manca soltanto eh vabbè ma chissà dove sta bastardi boh allora proviamo allora facciamo tutti i viali fin quando non capiamo eh no non so però forse a piedi non è molto grande questo posto comunque non dovrei avere tutti questi problemi oh no ecco qua ecco qua a posto vai ecco qua finito non ci ce l'hai ma famma mia però la tortura di balle ok andiamo dalla tipa là eccola qua non ci stava vicino in realtà 3-4 C'è tutto ciò. Possiamo chiudere il libro su Cactuar Capers. Credo che dovrei ringrazio a te per aiutare qualcosa di più amore nella mia vita. Dicchè, se non puoi imparare con loro, mi piacerebbe mandare le foto di queste Cactuar alla mia esposa e ragazzo. Solo una piccola forma di sapere che sono sempre nei miei pensieri. Sì, sono loro. Ecco, rispondi al telefono, non per le palle. Vai, vai. Allora, noi abbiamo fatto tutto. L'unica cosa che dobbiamo fare è fare i vestiti da questa, vedo. Ne abbiamo varie. Una. Due. Poi. Una. E due. Così. Ok, adesso andiamo qua al camerino. Vediamo che cosa ne viene. Ok. Ah, dobbiamo. Ok. Già so quale sceglierò comunque. Non questa. No, no. Ma questa. Va. Ma. Non mi piace non nessuno. Cioè, a parte. Vabbè. Vabbè. Meglio questa. Comunque. Meglio questa. Ok. Andiamo da. Forse. Ok. Edith Edith Ok Lei è più elegante Proviamo questo completino Ma insomma Le spalline Non mi piacciono Sì, molto meglio questo sicuramente Infatti quindi Ok, no, perfetto, bellissimo Bellissimo Grande Sì, sì Oh, di no, mi piace molto più Edith Poi io ci cambio nome, che non me frega un cazzo La chiamo come cazzo voglio io Allora, attenzione Ovviamente lei è più tettona Diciamo le cose come stanno Non siamo ipocriti Allora È più tettonica Eh, ho capito Sì, sì Abba Sì, sì Beh, Red Come si guarda? Huh? Tifa, tu guarda Sleek come un dolfin e l'Ereth come diaphanes come un fai di gelo è questa la tua forma di complimenti? la bellezza umana è difficile per me assessare gelosa, gelosa alla fine è riuscita ad arrivare eh? è stata un'impresa a fare l'editing ma comunque ce la faremo intenzione no, niente è solo freddo in il sole parlando di cui, potremmo potremmo mettere l'editing l'editing? l'editing? è tutto ciò che devi dire con noi? ci fai stato troppo bene da non la festa troppo bene da non posso fare l'editing? restassurato, non sono qui per la Terra ma se che sia che abbia dato l'editinga ti accetta non prendi noi oh i non at any rate a very special show is about to start one starring you perhaps wow so much fun why do you help you sleep you ain't gotta tell us so what say you care to join me in the lab if you girls sign up with finra you'll be set for life wow that's quite an offer and as luck would have it i'm in need of a few female assistants think about it you could help give birth to the world's next hero that would be so cool before a hero strikes down his foe he must strike them with awe at his beauty but he is not a hero by virtue of innate greatness oh so you heeded the call too did you what are you talking about ha 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 not consciously then as you can see your brothers down there are having a little get together uh line him up yes sir all right ha 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 okay let's move long sir this way and stop there you go you too that ought to do it empty shine good night really what the hell are you playing that that's my friends is for me to know and for you to find out what not cool man not cool No! Ha 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 ha! Natu! 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 No! Don't kill me! Don't kill me! Don't kill me! Yes! Only a reunion could produce such results. At long last, I have specimens worthy of my attention. Sick bastard! I'll kill you! Beret! Now is not the time! Someone has to stop them... ma le armi non ce le abbiamo? Appunto! Appunto... No! No vabè ho capito ma non potremmo mai farcela così! Ma veramente Dobbiamo combattere Edith e Barrett Oppure Tifa Tifa Vabbè Combattimento strano Comunque Non ce la faremo mai Boh No You're mine Time to get serious You're out of luck There Drop Eat it All one You got Not good enough Eh lui c'è l'arma incapporata Infatti Ottimo Buon senzio Vabbè Oh Verandipitous Our ancient Return to the fold We're so glad you changed your mind Eh Ha 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 Ho detto che non Non це Ho né را Ho Ha Ho 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 Che Ho 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 Bring it! There! Oh! Good luck! Follow me! Gotcha! Only fun! With me! You're up! You should be honored! Sì 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 No No Alla fine Sì 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 Boh Sto capendo un cazzo comunque Ma l'evocazione qualcosa Che cazzo è così Ok finito Quindi Non andare così Sì 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 Grande 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 Potentissimo veramente Brava Ma come Ma come Cioè Che cosa Mamma mia Che puntatona Che Che roba Sì Ah Comunque Ha detto C'è C'è Comunque Non vorrei dire Che è successo Qua Madonna tifa però Se è esagerata Non è stato così Non è stato così Era una figura di discorso Ehi Posso fare una per voi anche se vuoi Se vuoi No Sono bene Se la prossima che chiedi un cocktail Sì 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 Pertanto È quello che ho promisato a Barrett E quando Hai promisato a lui Nel'ora Nel'ora Mi ha messo un po' troppo magro di tifa eh Però Adesso Mamma mia Vediamo pure con Barrett Mi ha messo un po' troppo Voi e E i vostri problemi Non faccio lo psicologo Sto giocando a videogioco Vedere le palle Eh no perché Eh ho capito però La risposta giusta è qua È là Ecco qua Vediamo lui Se almeno Si è rilreso Eh Eh Non posso scendere lui Per le nostre azioni Sì 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 Hai ragione Eh Sì 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 No niente Manco questo Penso che qualsiasi cosa abbiamo disposto Si incazzavano Ho questa sensazione Eh Sicuramente Eh C'abbiamo un altro tipo qua Chi è? Chi cacchio? Late to the party once again Why do I even bother? Ah quello del No The company can't fire me Ecco Bravo Bravo La giusta decisione Si 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 E' la giusta decisione Quindi Si 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 Bravo Ok andiamo Quindi E quindi No C'è sulla spiaggia privata E' vietato Tutto vietato E' tutto vietato E' tutto vietato Mortacci vostri Che devo fare? Ma andate Ma andate Chi chi è? Ok questa Ah ok sta Dai ah ok Comunque ci vogliono bene Comunque Il mood è positivo Ok Saliamo le scale Il mood è positivo Il mondo è positivo E che devo fare? Eh si si E che devo fare qua? E che devo fare? E che devo fare? Eh scusate Che c'è da fare? Boh Bel tramonto Bel tramonto Bello Molto molto bello Molto molto bello Molto molto bello Johnny Sì 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 E' più alta Fatta meglio Ti fa La gambe troppo magre C'è 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 L'escrizione C'è E' più alta Sì, hai scoperto di lui, certo? Sì, potrebbe essere capito di pagare? Quindi... La ragazza ha detto Kapono, guarda il nostro hero e ci siamo smerati il tuo nome così male, Shinra va farcivi a te la cura. E' un'ottima cosa è che funziona. L'ho caved. Mi sono fuori e scopo, baby. That's great! Johnny, il suo hero. Proprietor of the Seaside Inn Soon to be seven star resort hotel Now that would be something You know you gotta get one star before you can get the other six, right? Very funny, but I got plans Ow, 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 ow Well, good for you You okay there? Great Now watch him fall up the stairs Fito, mi sa il quinto capitolo può essere Tutto questo non ho ancora salvato Sta caricando comunque Johnny Sida Seaside Inn Thanks for everything Ci siamo rivestiti Nah, I should be the one thanking you Anyway, what's next for you guys? Gotta follow some ropes Oh, those dudes shuffled off toward Mount Corel this morning Tried to get the injured ones to stay till they were healthy, but Corel, huh? Corel it is Be safe, you guys Wouldn't want anything to happen to my inaugural guests Bon voyage Okay Vabbè, in partenza Si parte, si parte, che è successo? Si parte, si parte, si parte Eh, poi si What the fuck? Some know me as the world's greatest material hunter Others, an unstoppable assassin And the rest, a benevolent and beautiful ninja But, who am I truly? Who ties white rose? The one and only Yuffie! Brava, Yuffie Ti hai salvato, in effetti Per cui Ti dobbiamo ringraziare Vabbè Hey, hold it, you spiky-haired jerkface Where do you think you're going? I challenge you to a duel If I win, you get the honor of serving yours truly However, if you manage to somehow fluke your way to victory This amazing ninja will agree to join you What do you say? Oh, it's like that, huh? Where's your pride? You're fighting spirit Just, ha What's the matter? Afraid you're about to get the beat down? Vabbè Beh, si era capito Oh, vabbè Vabbè Si va Hey, where do you think you're going? Ahahahah Think this through Are you absolutely 100% certain You don't want me around to save your butts? Si, si You can come with I knew you'd say that Well, seeing as you're so desperate I guess I'll oblige Welcome to the team, Yuffie Capitolo 7, auditorio non difficile You try anything funny, anything I'll shove you and the sister Ray Pointed at Wu-Tai And blast you back home Yeesh But I hear you You won't regret this Or my name is Yuffie Kizaragi Ok Venuta nel doaster Nostro team Ok Let's see over here And Ok Ok Ah, ok La via per il domani L'abbiamo fatto La via per il domani Non lo so Allora Qua in città Credo che abbiamo fatto tutto Credo Anche se c'è Ah C'è un incarico Ma c'è un incarico Ma davvero Ma dove Quando è uscito Questo incarico Quando è uscito Questo incarico Qua dice sopra Ok Ah Lui sarebbe L'incarico Com'è Qua in città Oh Johnny A name Thou has claimed Is thine But if thou Truly Johnny be Then who Pray tell Am I So yeah It's your classic Existential crisis You get the idea Uh Beds have all been made What's next Huh Oh Hey bro I told you to stay out of sight You're just gonna confuse him Che è Su gemelli Aren't you supposed to be out shopping anyway Go on Shoot Oh How come he gets to talk to my bro and I don't So unfair See what I have to deal with Su gemelli Su gemelli Huh It's true Poor Yanni and I were separated at birth when he was ripped from our mother's arms The creatures that stole him brought him up in the wild is one of their own and Oh he's not my twin This wouldn't have anything to do with me Using my ninja skills to create a bunch of clones Oops What it Turns out a few of a managed to stick around somehow And I think they might have even multiplied I mean I never doubted my amazing abilities but even I didn't realize I was capable of doing that But hey look on the bright side at least you aren't short-staffed Oh but I am I sent a crew to fetch materials and haven't heard a word from him since Turns out I can't rely on myself my other selves I'm begging you bro you gotta help me out here A Johnny's a wild beast that can't be tamed You know that There's no telling what sort of havoc these bad boys might wreak Maybe we should lend him a hand He's here are you down Fine Yes I knew I could count on you bro I sent them off to the coast of falls to look for materials for the renovations I want to start there Cancione poi ci salutiamo No Una nuova puntata in un momento diverso Le sto registrando tutte insieme Ehm Non so dove devo andare adesso Presumo uscire di qua Non so Uh Anc previously Uh No No Soira No No Cancione No 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 ho una buona selezione oggi ma no ah sono vari giorni quindi è qui quando li troviamo questi giorni è una missione sotto le palle abbiamo anche la bacheca degli incari la bacheca di Ok vediamo Ah ok Johnny aveva comunque esposto un Johnny comunque Aveva esposto un suo Va bene Lo capiamo però Messo Dove no Gritto Scusa Devo uscire fuori Immagino Eh non lo so Ehi come un ombra ombra Ok Ok, sono qui. quindi mi ha pagato no ah hai capito si ok allora qua non siamo quattro sono molto simili a questo io credo che qua non si possa andare bisogna presso uscire dal villaggio non è chiarissimo come si debba uscire infatti che posso andare a dormire non è affatto ben chiaro ok ci ha un foglio che non c'è più iniziamo a dire che ce l'ho fuori credo che non uscire non so da lunga perché vabbè qua no ok quindi oh ma non credo no perché di qua si va verso la nave quindi non è non è possibile perché lui ci porta di qua ma non vedo come allora abbiamo il noleggio allora a destra a destra abbiamo ecco qua costa no se si possono comprare ah devo fare amicizia con un ciocobo locale quindi non li posso noleggiare in realtà ok che presumo eh ho capito non ce l'abbiamo non avevo non ce l'abbiamo ok vabbè quindi ok abbiamo anche l'isola quindi anche un pericolo dell'isola ok non non l'avevo capito ma lo speravo sicuramente quindi abbiamo la possibilità di esplorare l'isola che finisce fuori un po' da non è detto che l'allaccio è bastardo ma sì però adesso è stato un po' ma non mi ha 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 questa parte qui sia nella realtà sia diciamo era tutto molto molto così molto prevedibile ecco ecco un sacco di 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 qualcosina da prima dai continuiamo eh ma c'è di tutto di più però qua attenzione un sacco di un sacco di ecco Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Bello, 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 bello. Bello, bello, bello. Bello, 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 be No, no, no. Un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte, un'altra parte. 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 Un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte, un'altra parte. Un'altra parte. Un'altra parte. Sì, 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 sì. con me no now you're done any last words? stop now stop now stop now stop now stop now ok oh oh non c'è non c'è non c'è non c'è ok ok non c'è ok no c'è Ah, ecco. Ok, ci siamo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info.it Oh, c'è una rica altra? Oh, c'è una rica altra? Oh, turisti, turisti. Sì, è una rica altra, turisti. Ok. Oh, c'è una rica altra? Oh, c'è una rica altra. E qui, attenzione. Oh, c'è una energia che ci fa bene. Oh, c'è una rica altra? Oh, c'è una rica altra? C'è una rica altra? Oh, c'è una rica altra? suvra, sicuro. No, come l'ho detto? Vabbè. Ah no, eccolo qua, eccolo qua, me l'ho male. Ok, a posto. Che ho risolto? Dai. Bella sta cosa. Pichissima ogni volta. Grande l'isola comunque. L'isola non so che, cioè, insomma, a questa parte. Ok, andiamo rapidamente giù. Scusami. Non basta. Ok. A parte che abbiamo anche questa cosa da fotografare. Ok, c'è Shango. C'è Shango. Come on. You're mine. That's that. Yeah! Freak it! With me! Now! Let's go! Do it! One step at a time. Come on. Let's go! Let's go! Do it! Come on. One step at a time. Ok da qui e beh effettivamente ma com'è non è ben chiaro però menu principale modalità foto allora faremo a scatto modalità foto menu principale non è chiaro come c'è allora menu principale eh eh questa è la la modalità foto ma scatta dove sta che è il pulsante principale guardate che siete degli idioti cioè veramente a me dispiace cioè non fate sempre le cose così a cazzo eh a parte è raggiunto la meta modalità ok vabbè menu principale modalità foto ok una volta stando qua abbiamo aperto la modalità foto i comandi ci sono nascondi menu nascondi personaggi visuale iniziale ruota muovi zoom ok ma lo scatto quale sarebbe perché non me lo dici quale sarebbe lo scatto è la cosa principale perché non me lo cornice angolazione angolo inclinazione esposizione filtri eh c'è tutto bellissimo però ho capito tante cose la cornice final fantasy ok mi fa molto piacere mi fa molto piacere che ci sono tutte queste cose quindi l'angolo l'inclinazione bla 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 l'esposizione addirittura eh ok però non c'è pulsante scatta per cui non si sa vabbè penso sia abilitato a questo punto non lo so perché vedo comunque una una B e vedo che si ingrigito quindi per lui va bene così poi non si sa quindi boh e che che ne posso sapere ok giocobo non so dove stanno però immagino che usciranno prima o poi quindi vabbè vabbè andiamo via devo fare uno scatto e non l'hanno fatto vabbè comunque i'm ready for you let's now ready brace yourself do it do it with me now let's do this not my best vai ok questa è tutta la spiaggia con attivazione da fare eh non lo so puoi andare a piedi al momento non lo so bella questa parte, questa è molto bella dettagli molto realistici, colori, cioè questo signore è un copolavoro, non c'è nulla da fare, questo è un cacchio di copolavoro, dice il contrario, non capisce niente dei videogiochi, è un capolavoro sotto tutti i punti di vista, un sacco di ami che non vedevano una roba di genere, capisco chi difende a spada tratta in playstation, poi comunque interrompiamo qua, ci sarà un prossimo episodio perché l'isola è bella 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 grande e quindi come sempre un saluto a tutti, ciao! 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 Ciao!